Il filmato delle telecamere Il filmato delle telecamere Abbiamo trovato una traccia Forse siamo sulla pista giusta Andiamo Che fine ha fatto la nostra inviata Vittoria? È ancora viva? Tu volete sapere che fine viene fatta tua Vittoria collega Tu vada a Giorgino Occhio a tu fare boom Molto boom Giorgino È vero che appartiene a un'organizzazione Che ruba le informazioni ai cittadini di Cunardo E le rivende a tutto il mondo? E che tutto questo lo fate attraverso il casco della messa in piega Eccola qua la vostra inviata Vittoria Che cosa ti hanno fatto? Giorgino Tu dovresti stare a zerto Vittoria In realtà io sono tuo padre Papà Buongiorno a tutti E benvenuti alla nuova puntata di Cunard Dark Nell'ultima puntata abbiamo indagato sulla setta del paiochiero di Cunardo Cosa succederà se la setta riuscirà seramente a conquistare il paese con il casco della permanente? Siamo in pericolo di vita? Giorgino era veramente il padre di Vittoria I nostri inviati sono la campagna della chiesa Una telecamera puntata verso l'altro E' stata forse manomessa per nascondere i misteri di Cunardo O solo per cancele Scopriamolo per una fine Buongiorno a redazione Eccoci qui con la nostra inviata Vittoria Appena salvata da una brutta esperienza Ci troviamo nei pressi della chiesa Per indagare sul mistero delle telecamere che puntano verso il cielo Perché punta in alto? E cosa stanno cercando? Avviciniamoci per scoprire di più Un momento ma Cosa c'è scritto sulla telecamera? Tu Fare Mi ricorda qualcosa? Sono confusa E' come se avessi anembio nel cervello Ricordo Forse Forse? Forse Un sentiero Un bosco Prigionieri Ci sono Venite con me Se la stanno proprio vedendo brutta ragazzi Beh Te la fanno che c'è Cata Dici Vanno da Giorgino Usano le pistole Si infiltrano con i saggi enti mondali E' là Ora ricordo tutto Vanno da Giorgino Vanno da Giorgino Vanno da Giorgino Per me voi Dovandare Oh! E tu chi sei? Io sono il primo prigioniero. Non sono riusciti a rubarmi la memoria. E come ti chiami? Il mio nome è Eric. Eric Scamorza. P.R.S. P.R.S. Pikachu P.R.S. Pikachu 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 P.R.S. Wow, Winko!